Musica Buonasera e benvenuti all'edizione serale del G News. Apriamo con la cronaca. La cronaca accoltellano il nipote perché lo sospettano di avere rubato in casa il loro assenza. Il successo a Nereto, il grave episodio di sangue, si è verificato in un'abitazione nei pressi della zona industriale del centro vibratiano. Protagonisti tre albanesi, due fratelli quarantenni e il loro nipote di 30. I due avrebbero raccolto elementi certi della sua responsabilità nel furto messo a segno a casa loro quando i due, uno residente a Martinsicuro, l'altro a Bari, erano stati fuori. Al rientro avevano trovato la casa a soquadro e un po' di roba mancante. Il faccia a faccia tra i parenti albanesi è sfociato però ben presto in lite. Sempre più furibonda dalle parole grosse alle mani, il passo è stato breve. Ma ad un tratto uno dei fratelli ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito con un fendende il nipote a una coscia prima di allontanarsi dal luogo della discussione. Il trentenne straniero è stato soccorso e trasferito in ospedale dove i medici gli hanno suturato la ferita giudicandolo guaribile in una quindicina di giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri di Nereto che hanno denunciato a piede libero i due fratelli per concorso in lesioni. E andiamo ad Ascoli, soldatesse vittime di prevaricazioni sessuali nella caserma Clementi. La stessa di Salvatore Parolisi. Una militare accusa un caporal, istruttore, mi ha buttata a terra poi mi ha costretta a simulare un rapporto orale con un lupo di peluche, mascotte del plotone, portandomola con forza all'altezza della bocca. Questo si legge nelle carte della procura di Ascoli la quale ha chiesto il processo per un campano in forza alla Clementi nel 2010. Forse erano proprio questi i segreti che Melania Rea minacciava di rivelare per vendicarsi di Salvatore Parolisi, marito soldato, impenitente fedifrago, amante di una conducente di carri armati. Forse proprio per impedirle di parlare fu uccisa da Salvatore il 18 aprile del 2011. Quel Salvatore è condannato a 30 anni in appello per il delitto e che ora rischia un nuovo processo con altri 12 caporali istruttori del 235esimo reggimento Piceno per un'inchiesta parallela. La procura militare di Roma contesta a lui come i colleghi la violata consegna per avere ricevuto le allieve dopo la mezzanotte quando avrebbe dovuto controllare sulla sicurezza della caserma. Una caserma a luci rosse, se è vero, quello che emerge dallo svelarsi delle carte delle varie procure che indagano sul caso. E andiamo ad Ancona. Un morto e due feriti sono il tragico bilancio di un incidente stradare che intorno alle 5.30 di questa mattina ha funestato la giornata festiva nelle Marche. Intorno alle 5.30 un'auto con a bordo tre giovani si è schiantata contro un albero sulla Corinaldese all'altezza di Ponte Lucerta. Per un ragazzo di 25 anni di Ostra non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo. Feriti in modo non grave i due amici che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri di Senigallia. E invece migliorano le condizioni della piccola di 7 anni schiantatasi insieme al padre con un bob ieri mattina ai Pratiditivo nel Teramano. La bambina è tenuta sotto osservazione nel reparto di pediatria dell'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stata prontamente soccorsa con l'elicottero dai sanitari del 118. Nell'impatto contro il muretto di un piccolo manufatto in legno a bordo pista la bambina ha riportato ferite al volto e soprattutto alla testa. Già oggi le sue condizioni di salute sono in fase di miglioramento ma i medici non si sbilanciano alla luce del trauma cranico subito. La piccola stava giocando con un bob insieme con il papà nella stazione sciistica Teramana dove però gli impianti erano stati chiusi per il cattivo tempo in particolare per le forti raffiche di vento che avrebbe messo a rischio chi scendeva con gli sci. E ha avuto un bilancio fortunatamente lieve il drammatico incidente che la scorsa notte poco dopo le 3 ha visto protagonisti 4 giovani teramani a bordo di una Peugeot che si è ribaltata più volte all'interno della galleria di via Conte-Contin sull'8.0. Una ragazza di 20 anni e un teramano di 24 sono in ospedale a Teramo con un trauma cranico e alcune scoriazioni mentre gli altri due occupanti dell'utilitaria non hanno voluto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale. Mazzini nonostante fossero in stato confusionale dopo l'incidente lo schianto si è verificato nel tratto in curva in galleria dell'uscita di Teramo-Centro sulla rampa che poi sbocca all'incrocio tra via Conte-Contin e Porta Romana sotto alla caserma della Guardia di Finanza. E' ancora cronaca la scorsa notte nell'ambito del rafforzamento dei servizi di vigilanza per le festività natalizie anche sulle arterie stradali della provincia una pattuglia della polizia stradale sulla SS80 nel territorio di Bellanti ha fermato per un controllo un'autovettura con a bordo un giovane albanese durante le verifiche documentali il giovane mostrava evidenti segni di nervosismo e gli agenti pertanto decidevano di procedere alla perquisizione del veicolo e a quella personale mentre l'uomo attendeva cercava di disfarsi di un involucro gettandolo tra l'erba del vicino campo la cosa però non è sfuggita i poliziotti che nel recuperarlo avevano modo di riscontrare che conteneva 10 grammi di marijuana l'approfondito controllo del veicolo faceva rinvenire ben nascosto un coltello a serramanico gli agenti decidevano così di procedere anche alla perquisizione del domicilio del trentenne fermato all'esito della quale si rinveniva all'interno della camera da letto in un cassetto dove era riposta la biancheria intima avvolto in uno slip un involucro contenente ulteriori 215 grammi di marijuana in un altro cassetto un altro involucro con 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione e ora andiamo a controguerra una sensazione di amarezza diffusa si respira infatti nel paese dove i gnoti hanno deturpato la statua della Madonna con il bambin Gesù collocata proprio al centro della città la statua violata sarà ripristinata in tempi brevi mentre si cerca di risalire all'identità dei vandali ascoltiamo il vice sindaco Gabriele Di Felice nel servizio di Luca Zarroli i vandalismi non hanno probabilmente confine nei giorni scorsi a controguerra qualcuno tra virgolette si è divertito nel danneggiare la statua della Madonna con il bambino qui nel centro di controguerra un simbolo religioso ma non soltanto il vice sindaco Gabriele Di Felice esatto confermo in toto questa analisi si tratta di un gesto che ha ferito in modo grave la comunità di controguerra perché non è soltanto un atto vandalico è un sacrilegio, un atto di blasfemia e in questo senso posso tranquillamente affermare con sicurezza che questo ha ferito completamente la cittadinanza di controguerra questa piccola comunità ecco io vorrei proprio esprimere in toto tutto lo sdegno ma anche il turbamento di questa nostra piccola comunità perché è una statua sì però insomma è anche un simbolo religioso è qualcosa che da oltre 40 anni è stato messo in questo posto è un punto, è oltre a essere anche un riferimento per questa piccola comunità ecco sì sotto questo punto di vista ovviamente è un atto vandalico che non ha delle motivazioni chiare è altrettanto vero insomma che cercherete insomma di risalire all'identità di chi comunque si è macchiato di questa cosa sì io posso assicurare tutta la volontà dell'amministrazione di non lasciare impuniti gli autori di questo gesto irresponsabile probabilmente chi l'ha fatto non si è reso conto di quello che stava facendo noi a tal fine abbiamo anche chiesto l'acquisizione dei filmati delle telecamere della vicina Banca Tercas che spero ci saranno utili la denuncia poi all'autorità giudiziare alle autorità che faranno l'indagine sarà formalizzata domani mattina al ritorno del sindaco e quindi ecco io mi aspetto che non ci sia impunità diciamo per gli autori di questo gesto ovviamente insomma la strada andrà anche sistemata sì questo sarà un nostro compito un nostro impegno che abbiamo già assunto qualche giorno fa insomma abbiamo già contattato delle ditte credo che sarà relativamente agevole procedere al ripristino e al restauro di questa statua d'altronto insomma tutto sommato si tratta di una statua in cemento insomma e quindi penso che riusciremo a ripristinarla a diciamo a riportarla allo stato precedente con relativa facilità insomma ecco quello che magari ci sicuramente impiegheremo un po' è diciamo il turbamento nelle nostre coscienze insomma che non sarà semplice ripristinare con altrettanta facilità entrano in azione in piena notte smurano la cassaforte la portano via con tutto il contenuto circa 10.000 euro e la dinamica del furto messo a segno la scorsa notte a Colonnella all'interno del cinema multisala arcobaleno la scoperta è stata fatta questa mattina dagli addetti alle pulizie che hanno semplicemente potuto notare quanto accaduto solo poche ore prima l'ingombrante cassaforte è stata smurata dai supporti in cartongesso e poi trasportata altrove nonostante il peso dove con calma i banditi hanno provveduto ad aprirla tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che indagano sull'episodio c'è quella che gli autori del colpo parte di loro possano essersi nascosti all'interno del cinema durante l'orario di proiezione delle pellicole per poi entrare in azione nel momento nel quale la struttura è stata chiusa trovato in possesso di alcuni materiali tecnologici rubati nelle marche all'interno di alcune scuole un commerciante di Alba Adriatica di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Grotta Mare in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Alba con l'accusa di incauto acquisto i militari sono risaliti all'identità del commerciante nel contesto di un'indagine per i furti compiuti negli edifici scolastici nel corso della perquisizione sia nell'attività commerciale che a casa il giovane è stato trovato in possesso di un paio di monitor dei lettori DVD ed altri materiali di provenienza furtiva il giovane commerciante avrebbe acquistato per 200 euro i materiali ragioni per la quale è stato denunciato mentre lo stesso avrebbe fornito indicazioni da chi ha acquistato la merce ancora furti i soliti ignoti si sono resi protagonisti di un furto con scasso nella chiesa del Santissimo crocifisso dell'icona nel quartiere di Porta Romana ad Ascoli Piceno a fare la triste scoperta ieri mattina è stata la persona preposta ad aprire la chiesa dopo che questa era rimasta chiusa dalla sera precedente i malvimenti hanno approfittato dell'esistenza di una porta finestra situata a sud dell'edificio completamente nascosta alla vista della strada l'apertura appartiene all'ex convento attivo alla chiesa attraverso la quale una volta forzata si sono introdotti all'interno della struttura e da qui attraverso la scalinata sono scesi per raggiungere la chiesa infilandosi sotto l'impalcatura che sostiene il presepe dopo essere passati tra le statue e aver demolito la staccionata che delimita il presepe una volta all'interno della chiesa hanno scardinato la serratura della porta d'ingresso della secrestia dopo aver rovistato in ogni angolo si sono impossessati di tutto il denaro custodito in un cassetto frutto delle offerte dei fedeli elargite in questi giorni di festa è ancora un furto colpo messo a segno nella notte ai danni della ditta pennesi escavatori di Carassai siamo a San Benedetto del Tronto nella mattinata odierna i proprietari si sono accorti che mancavano un mezzo antineve e un escavatore per un valore di 150 mila euro entrambi però sono stati ripresi dalle telecamere del casello di Grottamare mentre entravano in autostrada per questo sono stati istituiti posti di blocco in numerose uscite tuttora indagano i carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto coadiuvati dagli uomini del territorio fermano e andiamo a Colonnella verrà prorogata l'ordinanza antiprostituzione promossa dall'amministrazione comunale di Colonnella che scadeva il prossimo 26 gennaio il bilancio è molto soddisfacente a spiegarlo lo stesso sindaco Leandro Pollastrelli nel servizio di Alex De Palo 66 contravvenzioni elevate da parte della polizia locale e ben 11 dai carabinieri Allora il 26 scade questa ordinanza noi siamo intenzionati a ripeterla come ha detto giustamente lei i dati sono confortanti perché 66 multe che ha fatto i nostri vigili urbani hanno fatto un lavoro eccellente effettivamente abbiamo avuto un ottimo introito da parte di queste multe 11 carabinieri e contiamo che quindi il lavoro vuol dire che ha funzionato almeno cerchiamo di creare un deterrente per quanto riguarda la prostituzione per il resto sappiamo che non possiamo multare le ragazze perché nessuno ha mai pagato in passato queste sanzioni e oltretutto non sono neanche molte volte rintracciabili per cui contiamo con questo sistema di scoraggiare un po' la prostituzione stiamo facendo anche degli interventi che stiamo cercando di programmare con On The Road per cercare di recuperare almeno qualcuna di queste ragazze un po' sul fatto che in effetti se seguite possono rinserirsi nella società civile e collaborare con le forze dell'ordine per denunciare diciamo i loro protettori che secondo me è la base fondamentale di tutto due realtà della dorsale del fiume Tronto con Trara San Giovanni e Valle Cupa che soffrono particolarmente il problema della prostituzione del sesso su strada ed è lì che si concentra la maggiore attenzione anche l'attività di vigilanza e sì noi abbiamo provato di tutto i vigili devo dire che stanno facendo un lavoro eccellente perché oltretutto la contestazione deve essere fatta al momento della consumazione dell'atto per cui capisce il disappunto molte volte di certe situazioni però devo dire che i nostri ragazzi sono veramente in gamba Sabine che il comandante ha fatto un buon lavoro gli altri sono veramente bravi io gli ho fatti i complimenti questa mattina quando mi hanno portato i dati perché vuol dire che sono efficienti e quindi noi dobbiamo con questo sistema con l'efficienza cercare di contrastare un fenomeno che purtroppo sappiamo che è difficile da contrastare non è il bisogno di fare cassa tutt'altro però 400 euro a contravvenzione e sono comunque una buona risorsa aggiuntiva da iscrivere in bilancio oltretutto e questo forse l'aspetto che fa da deterrente è che le sanzioni che vengono elevate vengono puntualmente pagate proprio per evitare la notifica di ulteriori atti che in qualche maniera poi fanno scoprire il vizietto di andare con prostitute ma guardi qualcuno chiede anche la rateizzazione perché in effetti pagare 400 euro non tutti sono disponibili però ecco noi innanzitutto utilizziamo questi soldi per quando riguarda la viabilità la cartellonistica stradale quindi rinvestiamo sul territorio quindi almeno servono a qualcuno serve alla zona di San Giovanni di Vallecupa al territorio comunale per la cartellonistica per tante cose ci acquistiamo addirittura asfalto a freddo tutto quello che serve per la manutenzione stradale l'associazione nazionale partigiani di Ascoli Piceno è profondamente offesa dal comportamento dell'assessore provinciale alla cultura di Ascoli Piceno Andrea Maria Antonini che durante la partita Ascoli Frosinone ha indossato una sciarpa con la croce celtica e ne ha chiesto pubblicamente le immediate ed irrevocabili dimissioni un assessore alla cultura si legge in una nota non può permettersi il lusso di passeggiare sugli spalti dello stadio cittadino facendo bella mostra della sua persona addobbata di sciarpa con tanto di simboli celtici che inneggiano e rievocano quel nazifascismo autore dei peggiori crimini a danno dell'umanità tantomeno può permetter solo un assessore della provincia di Ascoli Piceno insignita di medaglia d'oro per attività partigiana anche il consigliere comunale del partito democratico Stefano Corradetti interviene sulla polemica per la sciarpa indossata ad Antonini ieri durante la partita Ascoli-Frosinone il presidente della provincia Piero Celani scrive Corradetti deve ritirare immediatamente la delega alla cultura all'assessore Antonini e il sindaco Guido Castelli deve condannare pubblicamente il gesto vergognoso del consigliere comunale impegnandosi a non candidarlo nelle sue liste alle prossime amministrative e ora parliamo di saldi sempre più italiani scelgono la bici per lo shopping per la sua comodità e per aiutare l'ambiente quando emerge da uno studio promosso da Beltè pubblicato da ilvelino.it dal quale risulta che il 35% degli italiani la utilizza principalmente proprio per andare a fare la spesa un'abitudine che accomuna sia gli uomini che le donne che caratterizza principalmente gli abitanti del centro Italia con un 37% a scegliere i pedali sono soprattutto dirigenti insegnanti liberi professionisti 38% e coloro che vanno dai 25 ai 35 anni un 42% rispettosi amanti dell'ambiente amanti dello stare in forma in maniera semplice gli italiani salgono in sella per andare a fare shopping proprio come fanno i VIP e le celebrità ma chi sono gli amanti del bike shopping sia gli uomini 36% che le donne 37% la maggioranza appunto va dai 25 ai 35 anni seguiti dalla classe d'età 56 65 con il 40% e da coloro che hanno meno di 25 anni con un 37% e a proposito di spesa e di saldi sono iniziati anche nelle marche sabato scorso i saldi invernali per l'appunto a San Benedetto del Tronto capitale dello shopping nel Piceno si è registrata una buona affluenza nei negozi del centro cittadino aiutata anche dalla fiera l'antico e le palme riproposta anche per il periodo dell'epifania una piccola boccata d'ossigeno per il commercio di San Benedetto anche se la maggior parte dei negozianti lamenta una riduzione delle vendite rispetto agli anni passati vediamo il servizio di Pierpaolo Flammini tanta gente al centro di San Benedetto sono iniziati i saldi invernali in concomitanza con la fiera dell'antico e le palme sono in tanti che cercano l'affare trovi una maglia più di Natale poi la trovi dopo dieci giorni che è scontata anche la metà poi sempre detto dato i tempi che coro uno approfitta abbigliamento soprattutto abbigliamento soprattutto aspettiamo i saldi fare un'occhiata girare poi c'è mia figlia interessata a cose giovanili avete atteso questo periodo degli acquisti oppure è un po' casuale il fatto che siete oggi nei negozi per i saldi è sempre importante data la situazione aspettare questo periodo nel mio caso è casuale sono delle occasioni importanti qui al 50% lei ha aspettato i saldi oppure no sono passata qua e sono entrata casualmente non è neanche il mio negozio per cui non so sì soddisfatti si lavora va bene qui va bene qui non si risente la crisi il periodo di Natale è anche stato buono sì 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 Natale si è andata andata bene pensavamo peggio visto il periodo però alla fine qui è una fascia media di prezzo quindi si è agevole a tutti diciamo che oggi sta andando abbastanza bene ieri come primo giorno non è stata una bella giornata per noi natalizio invece com'è stato? natalizio diciamo nell'ultima settimana sì comunque un po' la crisi si sente beh il trend per il momento è ancora negativo ormai da anni da anni però dobbiamo fissare un punto fisso per poter risalire la china in modo tale di lavorare un po' tutti quanti se no sicuramente ci saranno tante chiusure in un futuro basta io saldi ci sono sempre quando serve una cosa o saldi o non saldi se serve la prendi da uomo a uomo è fatico stare dietro le donne quando vogliono fare shopping lascia perdere è fastidioso noioso mi vengono i sudori guarda torniamo in Abruzzo la CGL accoglie favorevolmente l'introduzione del biglietto unico introdotto per il trasporto pubblico dalla regione che attraverso l'integrazione tariffaria permetterà all'utenza di utilizzare indistintamente lo stesso titolo di viaggio nell'intero territorio regionale sui diversi vettori pubblici e privati che operano sia su gomma che su ferro un'idea vincente commenta il segretario della CGL Rolandi oltre che condivisibile per due ordini di motivi con l'adozione dell'integrazione tariffaria l'Abruzzo seppur in ritardo di oltre 15 anni andrà a uniformarsi ad altre regioni pioniere che già da tempo hanno potuto constatare l'elevato grado di soddisfazione dei viaggiatori nel poter utilizzare un solo titolo di viaggio per i servizi di trasporto pubblico offerti dalle aziende operanti nel territorio regionale e torniamo nelle Marche nella fattispecie a Monte Prandone un po' in tutta Italia e soprattutto nella vallata del Tronto la situazione giovanile è molto difficile a causa della disoccupazione da record l'assessore alle politiche giovanili del comune di Monte Prandone Federico Ara Grande traccia un bilancio dei quattro anni in cui ha gestito questa delega molte le iniziative culturali a partire dai concerti rock allestite in questo periodo il servizio di Pierpaolo Flammini siamo qui con Federico Ara Grande assessore delegato alle politiche giovanili di Monte Prandone dopo quattro anni del mandato quali sono i principali risultati conseguiti dal tuo assessorato beh diciamo che c'è stata un'apertura forte verso la popolazione giovanile penso e riassumo dicendo che il progetto di creare una consulta dei giovani a Monte Prandone è stato credo innovativo e foriero di belle scoperte e di bei progetti quindi abbiamo coinvolto tutti i giovani intorno ad un tavolo per discutere e iniziare proprio a ragionare su quali potessero essere gli sviluppi di questa azione giovanile anche se poi non mi piace confinare le persone nei recinti abbiamo cercato di prendere tutte le esperienze i giovani migliori ma non solo i giovani diciamo che il progetto è stato poi attrattivo anche per tutte quelle persone che si sono volute impegnare e quindi abbiamo cercato di allargare il campo anche rispetto a un dato anagrafico mi piace ricordare tra le manifestazioni forse quella che credo sia più conosciuta e più importante è il festival musicale Cose Pop che ha registrato una grandissima partecipazione ricordo soltanto l'ultima edizione fatta quest'estate con Marlene Kunze e tre allegri ragazzi morti quindi una una gestione diciamo così molto molto precisa molto puntuale anche da parte di questi ragazzi che non fanno l'organizzazione dei concerti per mestiere ma si sono messi al lavoro corpo e anima per realizzare qualcosa di bello nel nostro territorio Monteprandone città storicamente caratterizzata da una zona industriale molto importante sta soffrendo anch'essa la crisi come nel resto d'Italia e nel Piceno cosa si respira a livello giovanile tra i giovani c'è alta disoccupazione c'è difficoltà i ragazzi forse tentano di andare fuori da questa zona ma la situazione che viviamo qui è una situazione molto difficile molto critica come quella che si registra in tutta la provincia ma in tutto lo scenario nazionale i comuni si trovano in questa fase a registrare un disagio fortissimo soprattutto dei giovani di quelli che sono stati espulsi dal mondo del lavoro di quelli che non sono riusciti ad entrarci e di quelli che purtroppo presi anche ormai dalla disperazione degli eventi neanche tentano di entrare nel mondo del lavoro a proposito di questo mi piace adesso sottolineare il progetto Monteprandone Lavoro che abbiamo proprio istituito in questi giorni e che prevede un incentivo in denaro alle aziende che assumono cittadini di Monteprandone quindi nella corsa competitiva così verso il posto di lavoro i cittadini di Monteprandone ed in particolare i giovani possono avere una carta in più da giocarsi e noi li accompagniamo anche con la creazione che abbiamo fatto di un software che si chiama Monteprandone Lavoro per diciamo così favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro L'incessante aumento del costo della vita rischia di far diventare anche la pasta un bene di lusso Casa Pound Italia sezione Val Vibrata non è rimasta indifferente di fronte alle migliaia di famiglie in difficoltà e ha distribuito stamane simbolicamente delle confezioni di pasta a titolo gratuito in piazza Umberto I a Sant'Egidio alla Vibrata e torniamo ad Alba Adriatica nel giorno dell'epifania due associazioni locali la Rotonda Nilo e la Rosa dei Venti hanno organizzato un pranzo assieme a coloro che vivono soli in situazioni di difficoltà il momento di socializzazione è stato promosso con il patrocinio dell'amministrazione comunale con l'obiettivo nel medio periodo anche di dare vita ad una mensa sociale vediamo il servizio Gianni Di Marco dell'associazione La Rotonda Nilo e Oriana Tribuiani della Rosa dei Venti un momento particolare oggi giorno dell'epifania organizzato un pranzo insieme a chi? Sì buongiorno a tutti noi insieme tutte e due le associazioni abbiamo voluto condividere questa giornata dell'epifania invitando le persone più in questo periodo sinceramente essendo un periodo particolarmente storico una crisi economica molto evidente abbiamo voluto li vogliamo coinvolgere per far conoscere le nostre associazioni che sono vicine ai loro problemi è un momento di agape e di gioia fraterna quindi noi festeggiamo e lo vogliamo condividere con loro non è esclusivamente per loro però perché comunque tutti si sentano invitati e partecipi noi festeggiamo e festeggiamo insieme a loro quindi speriamo che questo messaggio venga recepito anche per una futura eventuale mensa sociale che abbiamo intenzione entrambe le associazioni di voler aprire sul territorio di Alba Adriatica non è non ha una finalità di parlare di povertà assolutamente no noi non stiamo non vogliamo dire che le persone che vengono oggi sono persone povere noi vogliamo coinvolgere per condividere insieme a queste persone il disagio sociale che in questo momento attanaglia la nostra nazione e attanaglia anche il nostro paese signora Tribunani invece rappresentante dell'altra associazione che organizza questa iniziativa avete invitato tante persone sì penso che saranno una quindicina poi la mia associazione quella di Gianni speriamo che venga recepita bene nel senso come non come ti posso dire nel senso una cosa di vergogna per la gente che viene invitata perché assolutamente non è così come ha detto Gianni abbiamo fatto questa cosa insieme e condividere questo pranzo dell'epifania insieme alle famiglie che in questo momento hanno sono un po' più disagiate rispetto agli altri magari sono anche persone sole la possibilità comunque di condividere questo momento vero sì anche per fargli passare un'epifania un po' diversa dal solito diceva che questa è la prima una sorta di esperimento che poi insomma andrà verificato nel futuro Gianni noi faremo vorremmo fare una proposta al comune per una mensa sociale speriamo che noi approfittiamo della telecamera appunto per ringraziare il sindaco Piccione e l'assessore Alessia Ventura che comunque hanno sposato in todo questa nostra volontà di fare questo momento e hanno dato anche il loro patrocinio promozione con lode per il presepe vivente di Grotta Mare giunto alla decima edizione non mostra segni di decadimento e anzi è sempre più apprezzato dai visitatori che giungono non solo dalla riviera delle Palme e da tutto il Piceno ma anche dall'Abruzzo e dal nord Italia il 6 gennaio oggi giorno dell'epifania e il terzo appuntamento dopo quelli del 26 dicembre e del primo gennaio vediamo il servizio Siamo all'interno di una delle grotte del Paese Alto di Grotta Mare qui si svolge ogni anno delle scenette del presepe vivente sono veramente degli appuntamenti molto caratteristici ci sono centinaia di visitatori e questi spazi che durante tutto l'anno sono un po' nascosti vengono riscoperti in occasione di queste tre date del presepe vivente Grotta Marese lei da quanti anni svolge il ruolo di figurante qui al presepe? da quando è iniziato 10 anni sì 10 anni non si è annoiata e no ho quasi 70 anni insomma ecco questa si fa come sai una volta che ci fai un marito te lo tieni e così fai questa queste forme di formaggio che vediamo qui poi che fine fanno? ce le mangiamo l'abbiamo fatta ce le mangiamo noi tutti i familiari insieme buonissime proprio proprio degli atti di Begora siamo alla conclusione del presepe vivente un suo parere su questa edizione bellissimo rispetto agli altri anni ci sono più personaggi c'è più vita quindi ci è piaciuto positivo sicuramente complimenti a tutti perché è un incanto lei non ha saltato neanche un'edizione? no vengo da Teramo dove arriva signora? da Milano è la prima volta che visita questo presepe? no non è la prima volta però trovo che quest'anno sia particolarmente bello cosa apprezza maggiormente? l'impegno di tutti so che sono tanti i figuranti l'impegno di tutti l'ambientazione è veramente gradevole sorprende che dopo nove edizioni questa decima sia ancora migliore delle passate? no non sorprende perché già si sapeva penso io perché organizzata bene proprio bella chiediamo un parere al piccolo Babbo Natale ti è piaciuto il presepe? che dici? sì è ora la pagina dello sport la diciottesima giornata dell'eccellenza Marche prima di ritorno è andata in archivio con otto successi di cui quattro esterni ed un solo pareggio 0-0 la Samb ha il diciassettesimo risultato utile consecutivo ed unica squadra ancora imbattuta nell'eccellenza Marche ha centrato la settima vittoria consecutiva ed è già campione d'inverno in attesa di recuperare la gara interna col Tolentino rinviata per motivi di ordine pubblico la capolista Rosso-Blu ieri ha battuto tra le mura amiche la Vigor Senigallia allungando di altri due punti sul secondo posto esattamente a più undici sul Castel Fidardo fermato sullo 0-0 casalingo dal Grotta Mare e in eccellenza Abruzzese non si ferma invece la corsa della capolista San Nicolò vittoriosa anche ieri dopo la sosta natalizia nel derby Teramano di Alba Adriatica tiene il passo a stento la seconda forza del campionato l'Avezzano vittorioso punto in casa per 3-2 non conosce i limiti invece la crisi tecnica del Montorio battuto a domicilio anche ieri sul torneo vediamo il servizio il rullo compressore San Nicolò non conosce ostacoli nel campionato di eccellenza abruzzese vince ancora e nettamente 1-3 la squadra di Epifani ad Alba Adriatica in una partita già chiusa in 8 minuti quelli che vanno dal 15esimo al 22esimo grazie all'1-2 firmato da Ciampoli e da Iaboni a nulla è valso il calcio di rigore di metà ripresa di Liguori con i padroni di casa che avevano provato a riaprire la contesa perché un altro penalty del doppiettista di giornata Iaboni 10 minuti più tardi scriveva di fatto la parola fine sul confronto restano inalterati i 10 punti di vantaggio sull'Avezzano vittorioso per 3-2 con molta sofferenza grazie ad un gol a tempo scaduto di tabacco nella gara interna con il San Salvo il campionato pertanto resta saldamente nelle mani della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni che potrà soltanto perderlo nella seconda di ritorno nel torneo larga vittoria esterna del vasto Marina ad Altino è finita a 0-4 e del Cupello a Montorio 0-2 con i gialloneri del Vomano oramai sprofondati al terz'ultimo posto della classifica trovandosi dinanzi al peggiore dei campionati di eccellenza abruzzese della loro atavica storia calcistica in questa categoria oltre a quella della Vizzano l'unica vittoria interna di giornata lo tiene la Torrese 2-1 sul Miglianico è sempre più terza forza della stagione in grado di poter aspirare anche al secondo posto ancora occupato da un Avezzano che farebbe meglio a questo punto a guardarsi dietro piuttosto che avanti e quindi al primo posto del torneo oggi è una vittoria di doppio valore perché ripartire dopo le feste in questa maniera in un campo difficile penso che oggi ha valore doppio questa vittoria la squadra è venuta qui ha creato tante occasioni da gol credo che abbiamo vinto meritatamente e continuiamo questa corsa grandiosa perché veramente stiamo facendo un cammino veramente incredibile dietro a questi giocatori importanti c'è un'organizzazione ci sono giocatori che danno l'anima quindi i numeri che abbiamo non si fanno a caso si fanno perché c'è un'organizzazione c'è un grosso sacrificio da parte di tutti anche di quelli che stanno fuori però dobbiamo restare con i piedi ben salti a terra perché il campionato è ancora lunghissimo e dobbiamo continuare come stiamo facendo come abbiamo iniziato il giorno di ritorno e dall'eccellenza alla promozione abruzzese nel girone A ieri c'è stato uno scontro diretto per la bassa classifica tra il palmense Santomero e Jaguar Angizia Luco è terminato uno a uno con qualche motivo di rammarico in più da parte dei padroni di casa il servizio è di Walter Cori nel girone A del campionato di promozione regionale abruzzese continua la corsa verso la conquista dell'eccellenza da parte del Martinsicuro vittorioso a Barisciano grazie ad un gol dopo due minuti firmato da Valentini oggi la squadra rivirasca è a più 11 sulla seconda forza del torneo paterno sulle immagini di Santomero Luco terminato uno a uno tracciamo quindi un breve consuntivo di questo campionato iniziando proprio dallo scontro diretto al quale si riferiscono le nostre immagini è finita uno a uno con la palmense Santomero più vicina alla vittoria degli avversari i quali comunque hanno conseguito un pari che non fa gridare allo scandalo ad un primo tempo non esaltante nel quale fanno gridare al gol il macroscopico errore di Del Grande al quattordicesimo che a portavuota calcia incredibilmente alto ed il palo ospite colto da Mercogliano al trentanovesimo sulla cui conclusione è bravo nella decisiva deviazione il giovane portiere classe 96 a Iubi fa da contraltare una ripresa decisamente migliore nel corso della quale si erge a protagonista ma in negativo l'arbitro Ripanti di Pescara che accorda un penalty agli ospiti quando Sami cade a terra non si sa bene perché eravamo al decimo minuto prima della trasformazione con brivido ospite di Angelini buona la reazione nervosa dei padroni di casa che due minuti più tardi anticipano il gol del pari con Rastelli bravo a girarsi in area senza trovare la porta ed un minuto dopo invece arrivano al pari meritato che poi sarà finale di gara con lo stesso giocatore al termine di un'azione nata da un cross calibrato di Del Grande per l'assist e la bella conclusione vincente di esterno destro del lungo attaccante di casa al diciassettesimo meriterebbe il gol del 2-1 la Palmense al termine della più bella azione della partita sull'asse del Grande Rastelli di Massimo peccato per la non buona battuta finale la fase conclusiva del confronto vede un'altra azione degna di cronaca con la botta di Di Felice smarcato in piena area sulla quale Bassi riesce ad intervenire smanacciando l'1-1 finale dopo il 2-2 dell'andata lascia una chance in più alla squadra di Di Giacinto in caso di arrivo ex equo alla fine ma indubbiamente c'è ancora tanto da fare per uscire fuori da una classifica che vede 5 squadre appaiate a quota 20 punti con le stesse Santomero e Luco dei Marsi sono il Colonia il Mociano ed il Barisciano un punto in più del Balsorano 5 della Ternofossa e 9 del Derelitto Atria Fanalino di coda del campionato grande successo per la prima festa della Befana organizzata dall'associazione Direzione Futuro Nereto e precisamente sono due le Befane arrivate con le loro scope presso la bella cornice del Lago Verde che hanno consegnato doni, dolci e caramelle a tutti i bambini presenti l'arrivo delle magiche bicchiette è stato preceduto dall'animazione con giochi per bambini curata dal bravo socio dell'associazione Andrea e subito dopo le Befane hanno fatto il loro ingresso tra gli applausi e lo stupore di tutti i presenti e chiudiamo con le marche andiamo a Grotta Mare città come messa in scena questo è il titolo del workshop condotto dall'autore performer regista berlinese Lacos Talamonti che vedrà stasera e domani martedì 7 gennaio alle ore 21 e 15 al teatro dell'arancio di Grotta Mare la sua performance conclusiva con la collaborazione degli attori Enoch Marelli e Edoardo Ripani il workshop sostenuto dal comune di Grotta Mare organizzato dalle associazioni culturali Blau Up e Nessun Teatro ha come obiettivo quello di creare un ponte tra Grotta Mare e Berlino favorendo nuove collaborazioni per la realizzazione di performance urbane itineranti nel Piceno e nelle Marche l'evento ha richiamato l'attenzione di artisti provenienti da tutta Italia e dall'estero oltre che giovani del territorio alla prima esperienza teatrale ebbene questa come dicevamo era la nostra ultima notizia noi vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione alle ore 14 del G News vi ricordiamo che questa andrà come sempre replica alle ore 22 e 30 tutti davvero una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti